come state spero bene allora nuovo video altro video riccio si ancora non sono andata in palestra ma ci devo andare quindi sto tenendo il sto tenendo ospita che è nata vi dicevo devo riempire questa bottiglia qua d'acqua e poi si vado in palestra a dopo eccoci qua ragazzi adesso trovo l'acqua che c'era da ieri farà anche vomitare e riempio e poi chiudo con questo vedete la luce non è dei migliori la luce non è dei migliori ma pazienza ok è peggio è questa luce non so cosa abbia ma questa luce penso non è il massimo pazienza poi oggi è brutto tempo e ancora peggio non lo so perché fa così io tra l'altro devo rientrare in palestra oggi per di nuovo avevo voglia andare in palestra e ci sto riandando oggi poi come torno si fa di nuovo in doccia ho messo troppo acqua ma vabbè ne avevo messo troppo di acqua capite va bene quanto sono concentrata nel farlo lo so che è piaccato tutta l'altra ma non voglio troppa acqua ok niente ragazzi adesso io sigillo il tutto con questo coso qui vedete questo la luce non fa fa veramente pietà ma pazienza che vi devo dire niente e quindi quando torno faccio skin care non faccio nessuna maschera perché non me ne sbatte niente la maschera però una bella doccia me la faccio ah le unghie sono sempre loro eh le unghie sono queste vedete già adorissimo belle e niente adesso io stoppo e ci vediamo un altro momento e niente televisione nuova un po' per non vedere bella giganterrima vabbè non è un nostro regalo si è un nostro regalo ma fatto a mio zio il top ci piace e niente eccomi dunque siccome che non vi ho potuto portare commenti tutta la mia giornata ve la descrivo in breve in breve non si può sentire perché no in breve no allora praticamente sono andata in palestra ma alla fine in palestra non ho proprio messo piede perché non che non c'era il mio insegnante in ginnastica cioè non l'insegnante il mio collochetto facciamo in ginnastica insieme e così ho avuto la brillante idea di andare a centrare la relazione perché non posso stare sempre facendo palestra come mi ha detto la mia educatrice ma è bene che faccio anche altre cose per il semplice motivo che se faccio troppa palestra fa male mi fanno dolore le ossa se metto troppa come si dice se se insomma se faccio troppa palestra ha male le ossa e se esagero troppo con la palestra non va bene per niente quindi ho deciso di fare così mettermi aspettate un attimo mi sono messa più comoda dunque in poche parole non ho potuto fare palestra ma in compenso ho letto un bel libro lì al centro aggregazione e così almeno mi sono un po' rilassata e non sono la testa tagliata no comment vabbè niente allora ho esaminato una cosa leggendo un libro anche se sei annoiata non ti annoia leggere il libro perché è un libro bello scorrevole non ti annoi tipo il mio libro che ho qui do queste parti in camera via sì esatto sto guardando oltre la telecamera perché di là c'è dietro l'obiettivo la telecamera dietro la telecamera c'è si vuole niente dietro la telecamera il libro comunque ho avuto voglia di leggere un libro e così la mia educatrice mi ha dato un libro che non mi ricordo come si chiama buonanotte basta ricordare come si chiama perché si chiama un giorno di cioccolato o la cioccolata calda non mi ricordo o un negozio di cioccolata una cosa del genere si chiama non mi ricordo se mi ricordo farò un giorno porto tutte le fanno al centro e faccio la foto al libro così vi spiego meglio di che libro parlavo oggi perché visto come ricordo oggi di che libro parlavo me lo ricordo la prossima volta e così è stato ragazzi aspettate che mi dai nervi sta cosa lo so si vedono le scarpe dietro nella finestra ma stavo lavando e facendo cose anzi come vedo la verità è venuta di nuovo la donna della donna delle pulizie a pulire potrei pulire anche io ma anche io ho i miei limiti perché non posso stare sempre lì a sfare e disfare in continuazione nel mio letto quindi ho detto preso e ho detto chiamone anzi ha piocchiato l'ho chiamata l'ha chiamata mia nonna mia nonna è una donna delle pulizie e così ho fatto allora un attimo solo dunque eccomi qua si lo so ogni due per tre sposto la cam ma vabbè non lo so mi vedo il telefono storto non so cosa sia ma vabbè basta spostare il telefono che ogni volta mi piglia male ma vabbè dettagli o il telefono storto non lo so perché la registrazione è piuttosto storta ma non importa vabbè allora praticamente oggi ho fatto il lettuccio anzi me l'ha fatta mia nonna anche lei mi vergogno ma è la verità mi ha fatto il letto mia nonna la donna delle pulizie ha pulito la mia camera e vabbè perché chi non lo sa non sto qua a spiegarlo io non sto bene con le ossa ma vabbè dettagli e poi che altro dirvi scusate si è fatto un momento in silenzio ma stavo vedendo stavo ascoltando non so mia nonna stavo guardando la televisione e si ce l'ha in basura perché abbiamo preso la televisione nuova non so se ve l'ho detto nell'altro frammento di video ma abbiamo preso la televisione nuova quindi ne vai la televisione nuova è nulla quindi praticamente ho voluto accettare la televisione nuova e così è stato comunque non so non mi chiedete il modello della televisione perché non ho idea di che il modello sia tra l'altro la scatola non è qua a casa ma è in cantina quindi zero voglia zero sbattimento per andare a recuperare lo scatolo della tv perché non me la sento proprio comunque mi ho dimenticato la borsa da passeggio cioè la borsa abituale dove esco per andare a passeggio con i video vlog dove porto con me e c'è c'è lì dietro il cavalletto tra il quale io sto registrando ma c'è anche lì c'è anche la borsa della palestra già per farvi un esempio vi faccio vedere un attimo aspettate chiudo cosa vi sto dicendo lì lì dietro c'è la borsa abituale quella verde che mi sembra per andare in palestra e l'altra non quella verde quella blu scusate quella verde che la uso per andare a fare video su youtube la postare su tutti i social questa verde qui e l'altra invece per andare abitualmente in palestra a fianco lì da quella parte come state vedendo voi c'è questo libro qui questo qua questo non so come farlo per vedere questo qua vabbè non si vede comunque guidatevi c'è il libro che sto leggendo tra l'altro abitualmente e niente non si capirà nulla comunque aspettate comunque queste sono le due le due borse una per andare a fare video ma anche per fare commissione eccetera l'altra è la valigia della palestra questo mi ho letto fatto già si capisce benissimo che mi ho letto fatto e qua sopra c'è il libro che sto leggendo abitualmente qua sotto ci sono tutti i miei libri altri libri e agende varie dove qua invece c'è un'agenda un quaderno barra agenda come lo si voglia di o chiamare allora questa agenda è vabbè quaderno che è un quaderno con mio nome barra cognome scritto preso la Ruffetti acquistato non so a quanto prezzo non ci importa niente questo è il quaderno dove io vi dicevo come si è a posto dicevo il quaderno dove io scrivo i miei pensieri e non solo anche le robe da scrivere per youtube il video cioè le idee che vogliamo scrivere su youtube poi scrivo poco e nulla scrivo poco e nulla ma vabbè e nulla tutta la mia camera come potete ben vedere quella è la televisione questa qui che ho riportato dalla sala verso la mia camera tutto questo è tutto sistemato dalla mia assistente di ma si assistente come no certo che si insomma dalla donna delle pulizie poi qua c'è tutto sistemato per bene anche lì tutto sistemato tutto quanto a parte questi ma vabbè il cavalletto prima era chiuso ben sigillato vabbè chiuso e messo sul letto e nulla è tutto a posto e lì dietro ci sono tutte le scarpe vi dicevo lì dietro ci sono dietro lì la finestra all'aperto le scarpe da tennis nike che si stanno consumando ma vabbè niente no per dirvi che le lascio sempre lì a respirare un pochettino quelle scarpe lì vedete già ma non si vede niente se non ve le inquadro queste sono vedete queste qua già e niente tutta la mia camera come potete ben vedere quella è la televisione questa qui che ho riportato dalla sala verso la mia camera tutto questo è tutto sistemato dalla mia assistente di ma si assistente come no certo che si insomma dalla donna delle pulizie poi qua c'è tutto sistemato per bene anche lì tutto sistemato e tutto quanto a parte questi ma vabbè il cavalletto prima era chiuso ben sigillato vabbè chiuso e messo sul letto e nulla è tutto a posto e lì dietro ci sono tutte le scarpe vi dicevo lì dietro ci sono dietro lì la finestra all'aperto le scarpe da tennis nike che si stanno consumando ma vabbè niente no per dirvi che le lascio sempre lì a respirare un pochettino quelle scarpe lì vedete già ma non si vede niente se non ve le inquadro queste sono vedete queste qua già e niente torniamo alla base eccomi qua niente questo è il mio outfit come potete vedere non so se si vede qualcosa oddio mi stavo questo è il mio outfit da palestra che poi non l'ho proprio utilizzato ce l'ho addosso ma non ci sto facendo palestra palestra perché con la palestra ahimè oggi niente è palestra quindi io ho voluto leggere come avevo appena riferito prima un libro e ho fatto non so se sia stato peggio o meglio peggio o meglio però vabbè così ripetisco vi faccio rivedere nuovamente le mie unghiette che mi piacciono tanto adoro le mie unghie wow grazie estetista mio grazie di cuore queste sono le mie unghiette adoro adoro forse anche l'estate se ce le faccio me le faccio se no me le farò da sola e raga come dice mi hanno tutti questi soldi per farmi le unghie fatte dalle altre ma una volta ogni tanto ci sta se le faccio sempre il mio budget scarseggia un po' quindi devo anche stare attento a quanto voglio spendere con il mio budget perché si ho un bel po' di budget ma se lo consumo tutto se ne va via sarebbe a dire che con questo bacio che ho detto che il mio lo sorriso succhia tutto andandosene col paese però no non è andando col paese però se io compro e stracompro oppure che ne so se mi faccio una art le unghie fatte come mi piacciono a me vanno via come non mai come se non ci possano domani quindi devo stare attenta a come utilizzo come utilizzo i soldi come spendo i soldi più che altro non utilizzo come spendo i soldi perché se ne spendo i soldi in modo sbagliato già sto partendo male non va bene poi oggi ho messo i pantoffoli ho queste ve le faccio vedere queste qua un po' mangiocchiate però vabbè dettagli niente queste sono le mie scarpe le mie belle vabbè sono un po' consumate di qua all'angolo vedete qui ma pazienza ragazzi sono della dottor sholo cosa vogliamo della dottor sholo cosa vogliamo pretendere si sono una buona marca ma mi si stanno tutte rovinando e vai già questo è quanto mi faccio vedere una tanto è quella anche per l'altra e vabbè niente come primo giubbotto stamattina avevo quello di zara già ve lo faccio vedere un paio di volte e mentre per stare a casa ho questo che già lo sapete allora ho questo qua grigiotto bello grigio preso al mercato quando fa proprio freddissimo il quanto quando fa proprio freddo freddo ho questo con le tasche laterali vedete che c'è due tasche le faccio vedere una prima la tasca laterale la zip vedete zip e niente poi ho un cardigan che non porto sempre perché solo lo porto quando non fa tutto sto freddo ma un freddo un freddo sopportabile diciamo dai allora il cardigan che vi dicevo prima è questo questo qua questo è il cardigan e mi piace da matti bello 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 adesso un po' sono immagrita quindi mi dovrebbe stare più o meno quasi senza più o meno tutto mi dovrebbe stare proprio bene bene bello largo perché oramai le mie belle braccia e tutto quanto è quasi sceso è quasi andato via tutto l'eccesso si può dire di grassumene si quasi è andato via è così ragazzi è un po' grassotella in carne ma non facciamocene una colpa possiamo ingrassare dimagrire dimagrire ingrassare non so che non si può sentire sta roba ma è quello che penso io se mangiamo di meno non ingrassiamo così tanto se mangiamo tipo un paio di pacco di patatine allora ciao non ci siamo proprio coca cola pizzette che ne so caramelle cioccolati oddio mio aiuto e io sono la prima a dire che mangio troppe schifezze dovrei evitare di mangiare più frutta e bere tanta acqua e verdura invece la versione la mangio diciamo la verità anche tanta bere acqua a sufficienza ne bevo non proprio a sufficienza a sufficienza ma mi ci sto piano piano provando dai mi ci sto approcciando a bere più acqua dai e poi per quanto riguarda il la frutta insomma così è con ciò ci siamo o non ci siamo comunque questo è il mio cardigan c'è anche il suo cappuccetto il suo cappuccio dov'è che non lo vedo aspettate un attimo ecco questo è il suo cappuccio vedete questo è il suo cappuccio si vedrà sì il suo cappuccio e questo allora non ha tasche già vi avviso che non ha tasche e le braccia ce le ha perché ovviamente ha le maniche è veramente top fenomenale è bello caldo non troppo caldo ma è giusto sopportabile per non avere troppo freddo dai già e basta così niente ragazzi questo era tutto io adesso non so proprio come editarlo se lo edito perché magari il video lo lascio così ma non ci penso proprio perché anzi io dico sempre così poi si verifica il peggio che non lo edito per niente non va bene così lo devo assolutamente montare poi per quanto riguarda invece gli altri outfit giorno dopo giorno me li farò vedere tanti altri di outfit va bene ciao a presto e perché no fatemi sapere con i commenti datemi il vostro benedetto feedback fatemi sapere qualcosa e dai ragazzi siate buone un bacio ah non mi non non mi offendo se mi dite fai la brava e soprattutto non mi offendo anche quando mi dite fai quello che ti fa stare bene va bene fai quello che ti fa stare bene ciao ah un bel like commento e iscrivete e si ciao iscrivetevi e attivate la campanella perché è gratis ciao